Buonasera a tutti, sono Marco Carmentano del sito investire.biz Sono qui per segnalarvi tramite un video l'operazione che è stata lanciata durante il webinar del mercoledì Live, quindi in diretta con tutti gli utenti che hanno potuto replicare la stessa operatività quest'oggi Quindi all'incirca un'ora fa ho lanciato un'operazione sul Chicago Wheat Quindi sul frumento, come avevo segnalato nello scorso video Approfittando di una situazione dove il frumento viveva una situazione di compressione E comunque peggiore rispetto a quella del mais che aveva già avuto un forte rialzo Siamo entrati sul frumento a dei livelli a dir poco eccezionali Siamo entrati con una precisione assoluta a livello di 392,8 E in questo momento qui stiamo guadagnando 300 dollari nel giro di appena un'ora Ma questa operazione qui lanciata con uno stop loss ben impostato Lo vediamo qui sul grafico ad un'ora Avevamo lo stop loss leggermente sotto il prezzo di 390 dollari per bushel Attualmente siamo al prezzo di 406,6 dollari per bushel Vedete qui il rialzo come stato impulsivo già nei primi minuti dopo l'ingresso E il rialzo non si ferma qui Quindi i livelli da tenere d'occhio sono in un primo momento il livello di 410 dollari Che ritengo potrebbe essere aggiunto anche nel breve Poi i prossimi livelli da tenere d'occhio sono il livello di 420 e anche il livello di 440 Che si trova ben più su e ci potrebbe portare a dei guadagni ben più ampi Ricordo che sul Mais avevo segnalato anche dei livelli estremamente più elevati Quindi anche qui sul WIT manteremo la posizione e la chiuderemo con profitti progressivi Per portarla fino a livelli ben più alti di quelli attuali A livello addirittura di 500 e 570 Quindi tutto questo è avvenuto all'interno del webinar Seguito dagli iscritti al servizio premium trading sulle azioni Quindi vi segnalo la possibilità di iscriversi all'interno del sito investire.biz L'opportunità segnalata l'avevo indicata tramite un video Proprio qui sul mio canale Dove avevo segnalato appunto una differenza del comportamento del Mais e del Frumento Con un'opportunità in spread trading Opportunità che quest'oggi si realizza appieno In quanto il Frumento segna un più 2,87% Mentre il Mais è in rialzo ma soltanto dello 0,47% Quindi stiamo recuperando rispetto al percorso che aveva fatto già il Mais nei giorni scorsi Siamo entrati sul Frumento quando aveva ancora il segno meno Quotava il meno 0,5% rispetto al giorno precedente Adesso stiamo prendendo un rialzo che supera il 3% Tutto questo all'interno del servizio trading sulle azioni curato da me E vi annuncio delle importanti novità In quanto saranno lanciati dei segnali operativi tramite una tabella sui principali titoli italiani Quindi troverete all'interno di questa tabella giorno per giorno l'aggiornamento Con il segnale di breve Quindi un'operatività diversa rispetto a quella che seguo in questo momento Quindi questa doppia operatività Quella attuale che ci sta portando a dei bei risultati Con operazioni impostate sul lungo periodo E con dei titoli interessanti che ci stanno pagando e dividendo E poi un'operatività di breve sulle principali azioni italiane Da Eni alle banche passando poi per Fiat E quindi per tutte le principali società del listino italiano Con dei segnali operativi con stop ben fissato, take profit e il livello di ingresso Per abbonarsi al servizio premium basta andare su sito investire.biz Nella sezione servizi premium cliccare sul servizio trading sulle azioni E poi trovate la sezione relativa con la descrizione Cliccando qui potete abbonarvi e partecipare così anche voi al webinar del mercoledì All'interno del quale lancio i segnali operativi live E potete seguire le mie operazioni, interagire con me Quest'oggi abbiamo fatto un webinar molto ricco di domande E quindi abbiamo risposto a tutti quelli che erano delle segnalazioni da parte degli utenti Che tutti possono seguire Con approfondimenti poi speciali ogni settimana su un titolo da mettere in watchlist E da seguire in maniera approfondita Vi ringrazio per l'attenzione Vi rimando al prossimo aggiornamento Buona serata e buon trading a tutti